Back in ETV Bentornati su Balconi TV Sassari, io sono Laura, con noi oggi i treno di gomma. Ciao ragazzi! Ciao! Che ci fate sentire? Stasera vi facciamo ascoltare oltre l'azzurro. Benissimo, allora il palco è tutto vostro e enjoy the show! Grazie a tutti! Non sentirmi solo, è chiuso nella mia cella, io ti prego, fammi prendere il volo. Portali oltre l'azzurro, i miei occhi vogliono vedervi da male. Menti di uno specchio che riflette il sole. Portami oltre l'azzurro, i miei occhi vogliono vedervi da male. Menti di uno specchio che riflette il sole. Poi all'improvviso il sogno mio finisce, ritorno in questa ludida cella. E' vero, ho sbagliato, ma mai fu lieve la mia pena. Ho dipinto il mio soffitto, l'ho dipinto, l'ho dipinto d'azzurro. E Dio, durante l'onoraria io lo fisso, e Dio ti prego, fammi prendere il volo. Portami oltre l'azzurro, i miei occhi vogliono vedervi da male. Menti di uno specchio che riflette il sole. Portami oltre l'azzurro, i miei occhi vogliono vedervi da male. Menti di uno specchio rotto che riflette il sole. Ma adesso portami dove l'azzurro è il finito, dove i miei occhi sono come un ghiaccio. E ancora più su, dei miei occhi sono neri. E ancora più su, di su di me. Grazie per essere stati qua con noi e per aver condiviso questo pezzo. E insomma, il treno di gomma, fondati nel novembre del 2010, però so che si sta preparando qualcosa per l'anno prossimo. Ce ne vuoi parlare? Allora, il brano che abbiamo appena ascoltato fa parte del precedente lavoro uscito l'anno scorso, intitolato Treno di gomma, disco omonimo. E stiamo preparando un nuovo disco che probabilmente uscirà il prossimo anno. Ascolta, dove possiamo reperire qualche informazione? Un sito, una pagina Facebook? Sulla pagina Facebook del Treno di gomma, cercatela. Treno di gomma scritto col 3, Treno di gomma. Grazie. Io vi ringrazio ancora, ci vediamo alla prossima su Balconi TV Sassari. Sono Laura, ciao. Ciao. Ciao.